Una vergogna peggio di quella del 2017. L'Italia perde 1-0 con la Macedonia e saluta il secondo mondiale consecutivo. Fuori a quelli del 2018, fuori a quelli del 2022 e adesso Mancini, che tutti ringraziamo sicuramente per averci guidato al trionfo europeo appena qualche mese fa, deve dimettersi. Dimettersi immediatamente, con lui anche il presidente della Federcalcio, perché non c'è altro modo, perché questo è un disastro di proporzioni bibliche ed epocali. Per due volte fuori dal mondiale consecutivamente non si può accettare l'Italia, non si può tollerare, bisogna interrogarsi e farsi due domande su tutto il movimento calcio. Su quanto sia diventato di basso livello il nostro movimento, bisogna ripartire. Ripartire come? Non lo so, perché si era detta la stessa cosa nel 2017, poi è vero c'è stata la vittoria all'europeo, forse anche un po' frutto del caso, più che di reali meriti, seppure comunque Mancini aveva portato la squadra ad esprimere un ottimo calcio, a ritrovare carattere, però insomma questa è una squadra che è inferiore a molte di quelle che avrebbe affrontato al mondiale se solo ci fosse andata. E poi Chiellini che dice siamo distrutti, davvero per noi è una tragedia sportiva, però ci auguriamo di riprovarci al più presto. Riprovare cosa tu? Riprovare cosa? Hai chiuso? Hai finito? Ok? Adesso ti puoi pure ritirare a giugno, perché tanto la scusa del mondiale non ce l'hai più, per cui addio, basta, basta.